al dottore claudio saraceno da benessere ipnosi soluzione mi ha scritto ieri un signore dicendomi dottore io ho un indebolimento l'udito mi sembra debole non ascolto bene non sento bene mi sembra quasi quasi diventare sordo eppure ho fatto una visita all'autorino la ringoiatra e mi hanno visto che tutto era apposto il mio orecchio le parti interne all'orecchio organicamente sono integro e perfetto eppure non sento bene non sento bene bene io gli ho consigliato di recarsi presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della sua zona in italia all'estero se si trova anche all'estero perché no e iniziale delle sessioni di ipnosi è un discorso ragazzi di subcosciente di pilota automatico dell 88 per cento della tua mente che controlla anche l'udito bene con l'ipnosi vera e professionale può risolvere il problema io ho aiutato tantissima gente poi se non ha voglia di girare cappelle poi scrivermi un'email ai prologi associati che ho c'era libro punti e gratis ti dirò come fare anche da solo con l'auto ipnosi a iniziare a capire come funziona questa potente computer magari con il mio metodo di cs di però si vera professionale o di auto in prossima da professionale seguimi su facebook sulla mia fan page ipnosi auto ipnosi dottor claudio saracino a visita al mio sito internet www.ipnologi associati.com iscriviti a questo canale youtube per essere ipnosi soluzioni di cessa del dottor claudio saracino e facer condividi con amici parenti perché può essere quel quid che gli cambia la vita ea invertire questa tendenza alle orecchie di non sentire più perché ripeto deriva da qui e visita anche i profili instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni di cs il dottor claudio saracino è al prossimo video